Innanzitutto rispetteremo la tabella di marcia, quindi entro il 31 marzo sarà legge, un codice degli appalti moderno, innovativo, veloce, taglia tempi alla burocrazia, taglia tempi morti, taglia sprechi, aiuta i comuni e si fida delle imprese e dei liberi professionisti. Stiamo ragionando con l'Europa, con i comuni e con le imprese se l'entrata in vigore in estate piuttosto che qualche mese dopo possa aiutare a non bloccare tutto il sistema degli appalti perché è chiaro che quando cambia una norma con 230 articoli magari per Roma e Milano non è un problema, ma siccome 5 mila comuni italiani a meno di 5 mila abitanti mettetevi nei panni di un sindaco della provincia di Rieti o di Frosinone che rischia di metterci qualche mese a mettere a terra i nuovi cantieri, quindi conto che venga approvato nei tempi utili, nella migliore maniera possibile con ulteriori snellimenti e sull'entrata in vigore siamo a disposizione perché vogliamo aiutare, è un codice che deve aiutare i comuni e le imprese e quindi penso che l'Europa ci ascolterà così come ci ascolterà sui tempi del PNRR perché visti gli anni del Covid penso che una ridiscussione di modi e di tempi sarà sentita a livello continentale. Su Expo mi permetto di dire che tocca all'Europa, dopo il Medio Oriente, dopo l'Estremo Oriente che Expo torni in Europa mi sembra cosa buona e giusta.